Sarà un derby ad alto coefficiente di rischio per il Prato che torna in campo a lungo Bisenzio, inizio ore 15, nella partita valevole per la 35esma giornata di campionato contro il Real Forte Querceta. I versiliesi arriveranno a Prato affamati di punti in quanto attestati in piena zona play-out. Sinceramente pensavo di esserci già arrivato a una quota sicura. E' chiaro che dobbiamo fare ancora qualche punto. Mancano quattro partite e quella di mercoledì è una partita importante da questo punto di vista perché sia noi che loro abbiamo bisogno di fare questi punti. Siccome in casa non è che abbiamo avuto un rollino di marcia esaltante, vorremmo perlomeno fare una partita per accontentare ancora una volta i nostri grandi tifosi. Per la sfida, con il temibile Real Forte Querceta, il Prato dovrà rinunciare a due giocatori. Shannamè, squalificato per un turno dal giudice sportivo, e Ba, fermato da un problema alla caviglia. Per il resto tutta la rosa sarà a disposizione del tecnico Giancarlo Favarin, pronto a riproporre il consueto modulo 3-5-2. Da 1 a 10, quanto la squadra crede ancora ai play-off? Ci siamo detti dopo la partita di Mezzolara che dobbiamo cercare di fare più punti possibili da qua alla fine perché giustamente dobbiamo alzare un pochino l'asticella per avere anche motivazioni diverse. Diciamo che forse la salvezza l'abbiamo quasi raggiunta e giustamente dobbiamo avere altre motivazioni. E le motivazioni ci danno la possibilità di vedere la targa di quelli che sono sopra ed essere magari bravi e attenti per cercare di sfruttare qualsiasi situazione favorevole. Insomma un derby ad alto rischio. Il Prato cerca i punti per la matematica salvezza. Il Real Forte Querceta invece cercherà di mantenere a distanza di sicurezza la zona play-out. A lungo Bisenzio è prevista una partita ad alta intensità.